Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi The Sandbox Evolution, sequel del ben più popolare The Sandbox Classico che sicuramente avrete giocato se possedete un qualsiasi dispositivo mobile e che è praticamente appunto un'evoluzione di quel prodotto ben noto IPU Io spero che sia divertente quanto il suo predecessore perché io mi sono chiuso violentemente con quello per cui sono curiosissimo di vedere com'è questo sequel e lo scopriremo adesso subito insieme Io direi di fare play, senza andare sul create così Facciamo qualcosa di già pronto Io mi butterei, per chi non lo conosce, sul tutorial, visto che sono livelli molto rapidi In questa campagna imparerai come funzionano gli elementi e come interagire con ciascuno di essi in base alle diverse situazioni È un gioco che gioca molto sul concetto di fisica, chimica, lo fa in maniera veramente geniale Per quanto sia molto pixeloso e divertente E vi accorgerete di quanta profondità si nasconde dietro a questa apparenza molto giocosa e colorata Allora, come faccio a iniziare? Ok Beh, io posso fare anche col mouse, questo è un gioco che preferirei fare col mouse Sinceramente, allora, cambia l'orario Pianta un seme e osserva l'albero che cresce Zoom per vedere i maggiori dettagli Ok, quindi cambiamo il tempo Lo facciamo diventare, ecco Allora, di pranzo E fatto questo, io pianterei un seme Possiamo piantare, ecco Direi che va bene Lo sblocchiamo, ovviamente, come sempre con gli indicatori Ecco, lo piantiamo Meraviglioso Ok Ah già, devo zoomare per osservare Ma io non l'avrei già fatto Ok, perfetto Ci siamo Con graduazione hai padroneggiato il livello Dunque Impariamo come la temperatura influenza i livelli Altra cosa Fai evaporare tutta l'acqua e trasformala in vapore E ghiaccia tutto il vapore per farlo tornare a essere ghiaccio No, quindi dobbiamo far evaporare l'acqua e poi trasformarla in ghiaccio Detta in maniera molto più semplice Per cui Clima Facciamo molto caldo L'acqua sta evaporando Bene Trasformata in vapore E adesso la trasformiamo in ghiaccio Che diventerà grandine Perfetto Se vi piacciono le cose per sperimentare Questo è un gioco in cui vi chiuderete con una violenza inaudita Io quello su Giocato su iPad non mi staccavo praticamente Allora Impariamo come l'umidità influenza l'atmosfera e l'ambiente Attiva la pioggia Attiviamo la pioggia E' sempre pixeloso Per certi versi Ma lo è meno di quanto fosse il suo predecessore Per certi versi era abbastanza difficile anche capire che cosa dovevamo fare in alcuni momenti con questo qua Fortunatamente si capisce esattamente tutto di quello che è il contesto generale Bene Io ho fatto piovere Ah ecco Semplicemente questo Bene Andiamo avanti Allora Usiamo il multi elemento per creare un'immagine riflessa Allora Versa dell'acqua Sul multis E piazza una Una mucca Nella parte destra per bilanciare Allora Non ho ben capito che cosa devo fare sinceramente Ah ecco ok Questo è chiaro La mucca dove la prendo? Ah ecco qua Giustamente Sblocchiamo la mucca Sblocchiamo la mucca Che poi è molto interessante perché facendo tutti i vari livelli Questo per chi non conosce questa serie Si sbloccano gradualmente delle cose Come appunto la mucca per esempio Sblocchata adesso E La cosa bella è che poi si può sperimentare liberamente con tutto ciò che si sblocca per fare un po' quello che si vuole È un po' una sorta di Lego in versione chimica È un po' un god game particolare Allora Gli elettrodi sono una bella creazione Possono dare vita a costruzioni elettriche e macchine Quindi selezioniamo l'elemento elettrico E lo usiamo per dare elettricità alla torre Allora Elemento Electro Ok I love New York Vedete questa è una cosa banale che però dimostra Quanto effettivamente quanta profondità ci sia la base di questo gioco Che è una cosa Per chi non lo conosce è sconvolgente Per me fu una sorta di flash mentale il primo sandbox Allora impara a usare il fill tool Lo strumento fill che apparentemente è un po' come il secchiello di paint Per farvi capire Allora Scegliamo il secchiello Dunque Scegli qualsiasi elemento Vabbè mettiamo l'acqua Ecco A posto Abbiamo riempito una fiaschetta d'acqua Banalmente Può anche essere usato per Rimpiazzare un elemento Quindi Che ci mettiamo l'acqua A posto di questo altro elemento E vedete che l'acqua inizia a bollire Per esempio Farà saltare il tappo? Non lo so Proviamo anche qua Ok Riempi tutti i contenitori rimanenti per comprare il livello Ok Si gioca con la scienza oggi Falco scienziato Dunque Andiamo avanti Questo vulcano è bloccato Ecco quando si inizia a fare cose che hanno a che fare con la distruzione Questo gioco dà il meglio di sé Questo vulcano è bloccato Potresti aggiustarlo usando il secchiello Ed è esattamente ciò che faremo Allora selezioniamo le pietre per riempirlo E facciamo in modo che appunto le rocce raggiungano la lava Quindi Poi selezioniamo il secchiello E lo mettiamo qua Adesso succede il delirio Che il vulcano si riattiva E adesso esplode Teoricamente Esattamente A chi piace sperimentare Io sono uno di questi È un gioco veramente che ti stupisce continuamente questo Allora Vabbè si può dar fuoco all'olio Praticamente Ed è esattamente quello che faremo Dobbiamo riempire la lampada d'olio e dargli fuoco Quindi impariamo a creare una molotov Allora Prendiamo il secchiello Lo riempiamo No ho sbagliato Ho messo l'olio ovunque In tutta l'ambientazione Adesso diamo fuoco a tutto Praticamente scoppia lo schermo Ecco Qua ho fatto un errore io Perdonatemi Non è andato esattamente come doveva andare Vabbè Facciamo finta di sì Ho dato fuoco a tutto Ce l'ho dato a buono L'obiettivo è stato completato Si possono usare anche metodi un po' a poco convenzionali Per andare avanti Bene Quindi abbiamo completato il tutorial Possiamo andare su un play normale Disastri Ci sono infatti diverse tipologie di livelli Suddivisi appunto per categorie Disastri Uomini della pietra Macchine Laser Questo è un mix Ninja Pixel art E un altro mix Ogni livello ha chiaramente qualcosa di sbloccabile Permette di guadagnare punti mana Con cui si acquistano nuovi elementi Con cui sperimentare È un po' un turbine Un turbine virtuoso Non vizioso Come si suol dire In cui si guadagna sempre qualcosa in più Da poter fare Qualcosa in più su cui giocare E di conseguenza Il divertimento cresce E la progressione è Veramente incalzante E gratificante Adesso ci facciamo un altro paio di Di livelli Della campagna Cominciamo con questo Oh Allora Causiamo un terremoto In questa rappresentazione Dell'antica Grecia Mi sembra un piano perfetto E Per cui Terremoto dov'è? Ah ecco Che ansia Poi di questi tempi I terremoti più forti Posso distruggere le città In pochi secondi E ce ne siamo accorti Ehm Allora Adesso aiutiamo le mucche Con un tornado Bene Fa cadere un tornado Sulle Sulle mucche Mamma mia Il panico più totale Mamma mia Hanno migliorato un casino La grafica comunque Rispetto al primo È decisamente più realistico E io l'ho fatto Vabbè Mettiamone un altro Visto che non ci sta dando Il completamento del livello Delirio più totale Mi date il completamento del livello Per pietà Per quanto sia gratificante Seminare il panico Bene Forse abbiamo esagerato E me sa Ok Poi Cosa abbiamo Queste case Non bisogna di più elettricità Ehm Cerchiamo di usare i fulmine Per aiutarli Bene Ehm Dunque Sulla torre Non credo fosse quello Il piano Eh infatti Non è stata una Grande bella idea Vabbè Ehm Poi abbiamo Ehm Bene Uno tsunami Da quanto pare Crea qualcosa Per proteggere la città Che cosa creo Che cosa creo C'ho 50 secondi Panico più totale Ehm Non lo so Non mi sono ancora Ecco Una piramide gigante Una piramide di ghisa Va bene La creo Ma io dove la metto Sul ponte Non è stata una grandissima idea Ehm Non lo so Non lo so 40 Ah no è fermo il timer Se l'apro qua Mi hanno preso un attimo di panico Generale Che cosa posso creare Per aiutare la città Per difenderla Il partenone No Ehm Non lo so Aiuto Ehm Un muro Crea qualcosa Per proteggere Sydney Faccio Faccio un Non lo so Credo di Che sto facendo Una cosa priva di Grande senso Ma Bene Oh Un po' Un po' di sani muri Non avranno più aria Tra poco Però Non credo sia importante 17 Ma c'è una cosa un po' più No eh 10 9 Moriranno tutti No Qui non c'è niente Di più 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 Non ce posso credere Ha funzionato Ah che poi era un temporale Non era Cioè tipo Una Ce l'ho fatta Miracolo Anche la piramide Ci ha avuto il suo senso Ehm Sta arrivando Una grande tempesta Lascia i sotterranei Prima che vengano Sì Buonanotte Lascia i sotterranei Lascia la metro Prima che venga Allagata E come la lascio? Ah la modalità La play mode Quindi Azione Con K Vabbè Io potrei anche prendere Il pad A questo punto E armarmi di quello Bene Si può fare Si può decisamente fare No Di qua non ce se passa Non so se ce sia un timer Aiuto Perché nessuno mi apre? K Vabbè io sono destinato a morte certa Eh io sono uscito dalla metro Ma Adesso Aiuto Signora Perché nessuno mi apre? Niente Non Non finirà bene per noi Credo Nessuno apre Ah ecco Mi faccio strada testata E mi è piaciuta Sta Via via Come un re di vivo Super Mario Ce la faremo mai? Sono incastratissimo Aiuto Credo che non fosse questa Allora Facciamo C'è un modo per esettare la situazione? No Non voglio tornare al menu Ecco si Ricarichiamo Il mondo Bene Non mi ridanno i comandi So contento Non c'è grande modo Vabbè Vai 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 Senza paura Senza paura Se passassi di qua Non c'è niente Bene Eeeh Stiamo morendo affogati Ah ma io potevo fare Ma Potevo fare un doppio salto E semplicemente andarmene Eeeh Dunque Qua c'è un interruttore Credo Sì Ha attivato l'interruttore Vai 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 Prima che sia tardi Poi ho questa musichetta Angosciantissima Eeeh È troppo tardi per me Salvati Va bene Sarà fatto Il portale Il portale Al portale Presto Ok Che cosa ho fatto? Niente Si è completato un'altra volta Si è completato un'altra volta Per cui Se io andassi su play No Non abbiamo completato niente Perché mi ha fatto uscire Da un qualcosa Che non Che non doveva essere ancora Ok Allora C'è una strana figura Che aleggia su Londra Eeeh Sembra intenzionata A scatenare A scaricare Delle bombe nucleari Sulla città Quindi Ah ecco Dobbiamo creare Una Una barriera Per salvare Londra Eeeh Una barriera Che non Che non Trasmetta Che non trasmetta Energia Elettrica Per cui Muro Banalmente Non ci sta Elettricità Qua Io Io Ripunto Su 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 questo tipo Di cosa Creiamo anche Un vuoto Cosmico Qua Per 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 fare in modo Che la Che la roba Venga assorbita Potrebbe essere Una bella idea Ok Eeeh Che altro Ci possiamo Mettere A questo punto Facciamo uno strato Di Di Lo so No Non posso riempire Maledizione Uno strato Di Di Vetro Di Il vetro Il vetro Ci piace Strato di vetro Strato di vetro Eh si Mischiamo tutto Massi Ma che ce frega Vai Vai col vetro Bene Sei secondi Moriranno tutti Sicuramente Perché avrò Sbagliato Completamente Il principio Di base No Non ha retto Niente Dov'è Dov'è Che ha Bucato Dov'è Che ha Bucato Scusate Non ha Senso Vabbè Ragazzi Io direi Che dopo Questa Amarissima Sconfitta Ci potremmo Anche Salutare Qua Per cui Io come Sempre Vi lascio Il sondaggio In alto a destra Per farmi sapere Se volete vedere Qualcosa in più Di questo The Sandbox Evolution E Come sempre Vi segnalo Che trovate Il link Alla pagina Del sim Del gioco In descrizione Detto questo Fatemi sapere Che ne pensate Noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi